Perché Promovol? Allora quando sono stata contattata mi hanno subito convinto parlandomi della squadra in un modo mai visto prima nel senso che raccontano delle loro ragazze in un modo molto molto amorevole e consci di quello che possono fare quindi mi hanno dato questo senso di familiarità e cordialità che difficilmente si mostra subito e quindi mi hanno incovinto poi con questo progetto che sicuramente vuol far bene diciamo insieme al modo in cui vengono trattate le ragazze. Allora portare sicuramente porterò un po' della mia esperienza dopodiché definirei i confini di una giocatrice cioè il ruolo che ha è sempre un po' difficile quindi porterò l'esperienza che ho sul campo mixata alle loro qualità e prenderò da loro ciò che manca a me. Sì sono felicissima di essere tornata a Brescia e sono davvero felice cioè non ci sono molte parole per dire di tornare nella propria nella propria terra ecco. Il mio obiettivo per quest'anno è sicuramente fare un bellissimo campionato e mixarmi insieme a questa squadra di giovani che sono fantastiche quindi portare a casa tutto ciò che riusciremo combattendo una partita alla volta e vediamo ciò che arriva sicuramente ci stiamo allenando con impegno e costanza quindi speriamo che dia i suoi frutti.